Eh Danilo, il marchio non può non esserci, se vuoi io continuo a darti il pane di adesso che è molto meno buono rispetto a quello di prima Giuseppe, aumenta la qualità senza la marchiatura? In realtà è molto semplice come discorso Ci sono dei fornitori che riescono a fare la marchiatura, altri fornitori? No, giusto? E ok, fin qua ci siamo Il problema è che preferisco pagare Un pochino di più il pane senza marchiatura che pagare allo stesso prezzo un pane con la marchiatura Quindi automaticamente se la marchiatura costava 20 centesimi per marchiare il panino, adesso non essendoci posso andare a sistemare il gusto Ok? È molto importante Purtroppo X... Allora io ho provato a farlo marchiare questo qua nuovo di pane ma purtroppo il venditore mi ha detto io purtroppo non te lo posso marchiare Io oggi ho avuto una telefonata o oggi o ieri non mi ricordo con uno dei miei soci del progetto i burger di ciccio che mi era 89 E mi ha detto sì E il fornitore non riesce a marchiarci il pane Che facciamo? Prendiamo il secondo pane che avevo provato? Io ho provato un altro pane Molto buono, però il pane è un pochino più duro E quindi in bocca hai una sensazione diversa Non è affatto con i coloranti ma sa molto della spezia che utilizzi per aromatizzare il pane Occhio che ci grebo, eh Non c'ho il pompa E vi dicevo Beh, superiore a quest'arma Rispetto alla sua superiore Quindi dicevo Io ho provato anche quest'altro pane che era buono Ma il problema qual è? È che Cambiava un po' il gusto del panino E cambiava anche la consistenza del panino E non mi aggradava Quindi ho trovato un pane eccezionale ragazzi Veramente buono, 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 buono Però Però manca la marchiatura Però Sapete Un panino Più che essere bello Secondo me Deve essere buono E io sto puntando tantissimo sulla bontà ragazzi Mi dovete credere Mi dovete credere Io sto puntando tantissimo alla bontà del panino E praticamente ho riscritto la ricetta della salsa matriciana Ho riscritto la ricetta Della carbonara Le ho provate io di persona Le ho sistemate io di persona E E E Fatto questo E fatto questo E Fatto questo Sto Cambiando il pane Perché se voglio fare un salto di livello Ragazzi Devo cambiare il pane Devo cambiare il pane Assolutamente Io Io l'ho provato Ed è incredibile Quindi io ci tengo tantissimo Ci tengo veramente tanto 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 È un progetto che proprio Mi entusiasma E Spero che possa essere Tanto parte del mio futuro Questo progetto qua Cioè io ci credo veramente tanto nel food Perché Mi piace Mi piace davvero tanto Tra l'altro Voi non lo sapete Ma Ho sistemato anche Il pullet pork Allora vi spiego Perché Io sto seguendo tantissimi consigli Di voi Della community E tanti mi hanno detto Sì però Nel pullet pork Il cavolo un po' Non mi piace Rompe un po' le palle C'è un po' troppo E l'abbiamo tolto Abbiamo tolto il cavolo Quindi il panino costerà di meno Ed è un pochino più buono A secondo dei vostri gusti Cioè Raga questo è veramente Un progetto di community eh Ma veramente È un super progetto di community Tutte le volte che voi Mi date un feedback Un feedback Sull'hamburger eh Io magari non vi rispondo Nei direct Su instagram Ma io Ascolto raga eh Io ascolto tantissimo 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 Ed è per quello che Secondo me Il progetto Sarà Ben differente Rispetto ad altri progetti Magari di food Perché lo stiamo facendo insieme Capito Mattia Allora Tra l'altro Una cosa che non sai Del pullet pork Il pullet pork Ne ho assaggiati tantissimi Ma nessun pullet pork È buono quanto Quello che c'è Attualmente Nel panino Cambierò La salsa Non sarà più Una salsa barbecue Ma sarà Una salsa Barbecue Al jack daniel Eh Quindi molto particolare Molto buona Per dargli Un'impronta Un po' particolare Al pullet pork In più ci sarà Anche un pullet pork Con una salsa All'anduglia Che è veramente Fuori di testa Quindi ci saranno Due varianti Ci saranno due varianti Di bullet pork Eh ragazzi Io Potrei bestemmiare Quasi Oh headshot Santo il cristo Sono Sono pazzo No Ma l'hanno un pullet E Poi cos'altro Eh Uscirà Quello là Con la porchetta Con il cheddar Uscirà Quello con la porchetta Mi sembra piccante Vabbè raga Eh Sarà Veramente Una roba Incredibile Ciao Rebecca Ciao Rebecca New Yorkese Ciao Georgia Ciao Nick Quindi Vi dico Datemi Se possibile Fiducia Su questi progetti Perché Veramente Io ci sto mettendo Anima e corpo Veramente Proprio Anima e corpo Totale Ma penso anche Che si stia Vedendo No Quindi Per dirti Quando Un murri Dice Ah però Il bacon È poco Eh Ma trova Il tempo Che C'è Capito Lascia il tempo Che trova Nel senso Che I panini Li stiamo Studiando Stiamo Prendendo I feedback Degli utenti Ad esempio Il carbonaro Prima è Troppa Troppo 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 Pecorino C'è capito Stiamo cercando Veramente Di Di renderli Perfetti Quindi Non è così Semplice Anche perché Sembra una cazzata Ma aggiungere 10 Grammi Di Di bacon Dentro un panino A noi Ci aumenta il costo O comunque Cambia il sapore Dell'hamburger È È un po' Più Arzigocolata Come Come tematica No E Poi Calcolate che Adesso mi sembra Che abbiamo 14 15 Punti vendita Che hanno I burger Di ciccio Chiamera 89 A fine 2024 Ragazzi Stiamo puntando Almeno A 70 Punti Vendita E a Settembre Se tutto va Bene E io Io ci spero Tantissimo Dovrebbe Aprire Lo store Fisico C'è L'hamburgeria Di ciccio Chiamera 89 A Roma Vi voglio Tutti qua Ragazzi Perché facciamo Veramente Un mega Evento Un mega Evento Un mega Evento Eh carola Lo so Però io mi ci trovo Ben Fammi vedere Eh ma Posso diminuirlo Un pelo Si Gioco da pad Gioco da pad Vada Lo posso Veramente Diminuire Un pelo Volume Mettiamo 78 Non posso Fare Vediamo un po' Eh dai Questo è fortemente Che fai aggiornamenti Eh lo so Regà Per forza Lo store Ma lo sapete Che lo store Dipende tantissimo Da quanti hamburger Mangiate Cioè nel senso Se voi Continuate a supportare Il progetto Comunque Nelle casse Del progetto Entrano dei soldi Che comunque Vanno tutti Rinvestiti Per questi Progetti Qua regà È fondamentale È fondamentale Raga Quindi Che vi devo dire Se vi capitate Comprare gli hamburger Taggatemi su instagram Capito Qui Taggatemi su instagram Tanta roba Tanta roba Domani sarei di nuovo Robecca Varicina Beata a te Beata a te Quindi ti chiamerò Robecca Giramondo Bello questo Che cazzo Dove ci manda Mamma mia Ragazzi Che mina in faccia Raga Questo non ci ha capito Niente Eh vabbè Dai dai che sto riprendendo Un buon ritmo Su fortnet Bella claudia Ciao diego Eh one Va bene Rebecca Sono contento Che ci penserete Sono molto contento Divertitevi Il tempo non dovrebbe essere uno dei migliori Però tanto sai che Disneyland È un po' È un po' così Domani farò live Sì Dovrei fare live Bella partita comunque questa Abbiamo chiacchierato E in più è molto molto piacevole Sono contento di questa partita Andiamo a procacciare il cibo Va Cecchinata schiaffo Bravo Loki La famosissima cecchinata schiaffo Marco Sching Sul secondo canale Se tu cerchi Ho messo il video aggiornato Delle mie sensibilità O sul primo canale Non mi ricordo Comunque ci sta Bella forward Eh Giulio ma sai che c'è Io nella mia vita Ho fatto tanti errori E continuerò a farli Però una cosa che non mi si può dire È essermi fermato O essermi accontentato Del mio percorso Che ho fatto fino adesso Cioè questa è una cosa che Che non mi possa Essere attribuita No? Un attimo ragazzi Che qua Che qua Che qua день Qua si vanno proprio male Comunque dentro queste partite Porco zio Si odiano Si odiano raga Non so se sta sotto o se sta sopra No sta sopra C'ha tipo 400 medaglioni raga No 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 Passo 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 Non mi interessa Passo 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 Ne riparliamo dopo Johnny No 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 Non mi interessa non mi interessa Ok Bello fortemente mi è mancato un botto raga Dunque ragazzi io vi ricordo sempre se vi va di lasciare un bel like alla live su youtube Vi ricordo che dopo questa partita lascerò i cuoricini come sempre sotto all'ultimo video di oggi Quello là di mangio tutto all'universal al parco universal in florida Quindi se vi viene lasciare un bel like al video tra poco vado a lasciare un bel like insieme a voi E niente codice creatore 589 si vi va Angileri Daniel 2R50 bella 5 come andata a Miami Un abbraccio è andata benissimo Bellissimo come sempre Il volo perfetto sia all'andata sia al ritorno La business class ragazzi Vabbè è un altro mondo che vedevo di Un altro Un altro mondo veramente La cosa più grande in cui mi sono pentito fino adesso Mirko Ma in realtà ho tanti rimpianti io nella vita eh Però forse Anche se non c'entro niente Il rimpianto più grande è stato quello di Non accorgermi prima del casino che stava facendo il mio commercialista Perché È una cosa ragazzi che mi ha fatto parecchio male Economicamente Mi ha fatto tanto 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 male Non so chi cazzo mi ha sparato Però ne riparleremo più tardi Purtroppo Che devo fa' Non avrei cambiato macchina Non avrei cambiato casa E sarei stato sicuramente una persona molto più tranquilla Purtroppo Adesso sto cercando di risistemare un attimino Un attimino la mia vita Più che altro finanziaria Sapete che io non ve dico cazzate Non c'ho bisogno di ve cazzate a voi E Mi sto prendendo atto di quello che ho intorno E niente raga Io spero sempre Spero sempre Nel vostro supporto Diretto Indiretto Io Faccio sempre quello che posso Però effettivamente avrei Eh eh A saperlo prima A saperlo prima no Arthur lo sai qual è il problema dell'Italia E che se io denunciassi il commercialista Ci rimetterei solamente io Purtroppo Ricordatevi una cosa ragazzi In Italia Spesso e volentieri Chi delinque Spero che si dica così Credo che si dica così Chi delinque Insomma Chi è un testa di cazzo Spesso e volentieri Viene Viene agevolato Dalla Dalla legge italiana Io per esempio In questo momento Ho un altro problema Abbastanza grave Che però Non posso dirvelo In questo momento Ho un problema abbastanza grave Eh Che un po' Sta attanaiando ogni tanto il mio cervello Però Che devo fare? Io non c'entro niente Su questa cosa qua Però Vedremo in futuro Che devo fare? Però Regà La cosa mia è che Anche se Sto in un periodo Dove soffro Dove è un periodo Difficile Molto difficile Però sapete che c'è Tendo sempre a Provarci in tutte le maniere No? A tenere il ritmo alto A A non molare colpo Questo Vediamo queste cose Non perché voglio la vostra compassione Ma Spero di Di diventare come sempre Un esempio da seguire Su queste cose Su altre cose no Però su queste cose qua Spero di essere un esempio positivo Per voi Per chi mi segue Io è difficilissimo Che mollo Quindi lui sta qua Sta prendendo in continuazione Zip Secondo me Non mi dire che era il botter Che io Mi lascio impazzire Stupido botter Mi hai fatto sprecare un impulso Brutto stronzo Che non sei altro Va bene Eh ma Questa cosa Secondo me La dovrebbero un attimo Sistemare Dai gioco Ti prego Innanzitutto Che arma ho in mano Non lo so C'è uno che c'ha Un milione Di Siamo rimasti in tre Eh allora Se siamo rimasti in tre Se siamo rimasti in tre Dovrei essere un pochino Più presente Eh infatti Immaginavo Raga non ho fatto in tempo A dirlo Santo Dio Allora Devo muovermi Mi sborra Merda Lo sapevo io Quello col medaglione Avrà ammazzato tutti Raga Un'altra partita Siamo arrivati i secondi Porco zio Ha cinque medaglioni ragazzi Allora L'unico modo Per ammazzare sto cristiano L'unico modo È tirargli una cecchinata Se gli tiro una cecchinata Allora Forse ce la faccio Forse Sarà impossibile Sarà impossibile ragazzi Non l'ho preso mai Mi si è aperto il menu Merda raga Questo è un jumpatore Bene devo andare Ho il pompa scarico Certo la macchina Che si comporta così Ha tutte armi leggendarie Non so se state denotando Questa Aspetto magari non prendo a fuoco Sarebbe perfetto Ah raga Io ce provo Ma è difficile 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 Ho tutto scarico Lui sta sopra la montagna Se non erro No Eh raga Questo mi dirà Un missile Terraria In faccia Ma che cazzo Sei stronzo Merda Merda Mirko Per favore Non ho capito bene Lui come vuole giocare Lui sta scendendo In questo momento Se si avvicina troppo Raga io sono morto Raga se lui si avvicina Io sono morto Eh Dio ma puoi prenderti una cecchinata Per cortesia Ti posso tirare una cecchinata Tanto mo' Lui impulsa Ottimo Adesso me più Let's go Di trombo Di trombo Minchia Io vi dico come giocano le persone Regà Io ve lo dico come giocano le persone Ve lo dico come giocano le persone Perché così giocano Ho capito Antonio Sì Bella partita Minchia Regà So contentissimo Bellissima Regà Bellissima Lui era Assolutamente Tutta roba d'oro Come potete vedere Ci ha provato un botto Cinque medaglioni Sto schifo Mi doveva massacrar Mi doveva Po 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 Polo E daga 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 Daganale 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 Wah wah Bam Bam di 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 di